buongiorno a tutti ben ritrovati venerdì 15 maggio 2015 questa è la rassegna stampa occhio ai giornali che come sempre comincia con il santo del giorno oggi è sant'isidoro il sole è sorto alle 5.42 tramonterà alle 20.27 e tramonterà dietro una giornata un po' così piena di nuvole guardate la fotografia di questa mattina alle 7.30 e questo è solo l'antipasto di quello che vedremo comunque nel corso della giornata una giornata comunque calda perché abbiamo 19 gradi quasi 20 gradi già alle 7.30 quindi insomma ancora giornate incandescenti anche se le temperature come vedremo sono destinate a scendere anche per effetto del maltempo che sta arrivando ci sono nuvole minacciose che arrivano che sono verso il mare allora questa mattina cielo parzialmente nuvoloso per il transito di nuvole medie stratificate e maggiori addensamenti invece nell'entroterra nel pomeriggio avremo possibilità di isolati rovescio temporali nelle zone interne in particolare quelle centro settentrionali della regione le temperature sono in diminuzione nei valori massimi venti di brezza tesa o moderati sud occidentali in rotazione da est nord est dal pomeriggio il mare sarà mosso o molto mosso per la giornata di domani sabato 16 maggio il tempo peggiora ulteriormente infatti avremo precipitazioni diffuse nelle zone interne e collinari della regione Marche in particolare su quelle meridionali anche caratteri di rovescio di temporale maggiormente sparse lungo la fascia costiera le temperature sono in lieve diminuzione i venti di brezza tesa nord orientale il mare sarà mosso la domenica domenica 17 maggio migliora però resta la nuvolosità residua con nuvolosità in diminuzione dalla tarda mattinata avremo ancora nella giornata di domenica possibilità di qualche locale precipitazione residua al mattino nelle province meridionali della regione Marche le temperature sono in lieve aumento i venti di brezza tesa nord occidentale il mare sarà poco mosso allora la tendenza per i giorni successivi prevede flussi occidentali o sud occidentali caratterizzeranno la prossima settimana con tempo sostanzialmente stabile almeno fino alla fine della prossima settimana allora i giornali cominciamo dal resto del carlino le mense le mense scolastiche il servizio è stato assegnato ad una società che è una la più grande divisione del network di servizi internazionali che ha 54 mila dipendenti in 24 nazioni di cui 14 mila nelle 18 filiali d'italia e dunque si occuperà una di queste anche di servire i pasti ai nostri ai nostri figli agli studenti ai bambini dasman service apparecchia per tutti il colosso tedesco gestirà il servizio scolastico il comune risparmierà 150 mila euro 150 mila euro all'anno di risparmio per le casse del comune di fano e soprattutto meno cibo gettato gettato nell'immondizia il macero infatti surplus per esempio di frutta e verdura adesso prenderà immediatamente la strada della caritas e questo scrive il resto del carlino questa mattina l'aspetto più interessante del passaggio della gestione del servizio mense scolastiche dall'amministrazione comunale appunto la dasman service questa società che inizialmente aveva fatto paura insomma anche per una questione di occupazione ma che poi si è sistemato vedremo anche negli altri giornali andiamo sotto invece sulla pagina di fano un po di fano lungo la closet di canna il festival del cinema gli effetti speciali sono di un fanese si chiama giomaro detto gommo per il film di matteo garrone metti la questa è un'altra storia storia di mestieri che tendono a sparire ma che per fortuna ogni tanto vede qualche barlume di luce con dei giovani che continuano invece questa questa questo bel mestiere il mestiere del sarto metti in borsa la storia del lido un giovane stilista rilancia i disegni di maddalena schiavi ecco allora queste borse ispirata ai capanni del lido i capanni del lido che vedete qui in questa fotografia che belli che erano questi capanni straordinari poi ceriscioli la politica ceriscioli e spacca non sono fratelli di antonio baldelli come solito il carlino gioca lo fa anche a volte riuscendoci a strappare qualche sorriso con i titoli il candidato di fratelli d'italia alla ricerca del voto del centro destra a quelli di forza italia questo è l'appello che non se la sentono di votare il governatore antonio baldelli è questo signore che abbiamo cerchiato al centro tra mosè gaillardi e luca castratori bene sotto invece dalla destra alla sinistra troppi populisti in giro voglio spolverare la vecchia politica vincenzi naturiani una casalinga per altre marche sinistra unita il comune mette la vernice bagnini dipingono un patto per rilanciare la zona mare di marotta il comune ci mette la vernice bagnini circa 17 stabilimenti per 5 chilometri e mezzo di costa ci mettono il sudore e l'olio di gomito aggiungerei per dipingere l'originale sinergia collaborazione studiata dal vice sindaco e assessore ai lavori pubblici mondolfese alviso e carloni e dai gestori delle spiagge di marotta per migliorare dell'appilla estetico del paese costiero che si appresta a vivere la sua prima intera estate unita dopo il passaggio della parte fanese sotto l'amministrazione del comune cesanese poi appuntamenti elettorali elezioni federico tale a pergola un comizio con l'onorevole marchetti questa sera alle 21 federico tale che è sindaco di mondavio e candidato consigliere regionale nelle fila del partito democratico terrà un comizio in vista dell'appuntamento con le 1 del 31 maggio a pergola e lo farà nella centralissima piazza ginevri riorganizzare gli iatt e nuova classificazione alberghiera la ricetta del candidato boris rapa del pd che ha fatto di questo segmento il suo programma elettorale a fossombrone bilancio consuntivo con un buon avanzo la cittadina di fossombrone riesce a far quadrare i conti ma la minoranza è molto critica il sindaco pelagaggia dice raggiunti tutti gli obiettivi prefissati mentre mezzanotti dice fa acqua andiamo sull'ultima pagina del carlino per parlare di economia e di una buona notizia il cantiere navale diventa una calamita forse con l'isa gruppa anche soci locali ieri assegnata la concessione la compagine sociale non è ancora definita entro ferragosto si devono versare due milioni di euro gragnola che è il curatore fallimentare che segue questa vicenda ormai da cinque anni dice sono fiducioso apriamo adesso il corriere da urbino presi i capi di un vasto giro di droga sono due magrebini un disoccupato un imprenditore l'operazione ha portato all'arresto di 26 persone sono accusati di tra di traffico di sostanze stupefacenti sono rispettivamente in carcere e ai domiciliari mentre da fossombrone soldi sprecati per la litigiosità del sindaco la città è l'eden degli avvocati così dice mezzanotti poi un progetto un progetto che va in finale in finale al the plan award non sapevo ci fossero anche questi premi ormai si premia di tutto il nuovo viale della repubblica dell'architetto gessi selezionato per il premio internazionale che è un premio prestigioso andiamo sulla pagina di fano anche qui la politica in evidenza con noi rinasce il centrodestra antonio baldelli si candida con fratelli d'italia appello contro le liste pro spacca di grande dignità la scelta di forza italia di fano il pd ha distrutto sanità e strade da cancellare l'attuale piano mentre i 5 stelle con di maio incontrano i cittadini e i giornalisti nell'area davanti al caffè centrale alle 10 e 30 a fano fanesi ribadisce illegittima è l'indagine il capogruppo democrat precise il pensiero sul richiamo all'esposto di del vecchio per la legge in dubbio anche i consigli andiamo sulla pagina l'altra pagina del corredo adriatico sempre da fano tagliati tutti i servizi ai disabili del vecchio l'ex assessore servizi sociali denuncia la scelta della giunta serie in bilancio soppresse 90 borse di lavoro ancora dal quotidiano ecco il titolo che aspettavamo dopo quello un po così così sul lido le acque del lido sono buone l'assessore marchegiani spiega perché quest'anno non c'è la bandiera blu i divieti di balneazione non riguardano le spiagge ma le foci di arzilla e metauro per 48 ore dopo le piogge ancora politica montalbini da isola del piano in trincea a difesa degli ospedali delle zone interne da pesaro nuovo lis registrati solo disagi fisiologici i primari pazzaglia e l'offreda e l'informatico reggiane dicono adesso entriamo nel ventunesimo secolo l'implementazione di un programma porta piccoli problemi ma mai compromessa questa è la rassicurazione la sicurezza dei pazienti il lis è quel sistema che serve per gestire al meglio i vari laboratori stavo parlando di sanità evidentemente andiamo adesso invece sul messaggero la foto del premier Renzi che annuncia il suo arrivo nelle Marche il prossimo 25 maggio ovviamente a sostegno del candidato presidente Ceriscioli andiamo sopra per il titolo d'apertura la provincia stringe la cinghia lente di via Gramsci taglia telefonini, vende le automobili e lascia la sede di Urbino questa spending review cioè la revisione di questa spesa porterà alla riduzione di 150 mila euro di spesa corrente sotto invece le previsioni con le nuvole minacciose in arrivo Lupi, l'ex ministro, alleanza popolare e spacca la sola alternativa al monocolore del partito democratico l'ex ministro dalle urne può arrivare un segnale allo strapotere democratico lavori per 7 miliardi, le infrastrutture dimostrano il nostro impegno mentre Salvini della Lega con Acquaroli puntiamo dice al 10% per mandare a casa nelle Marche Governo e Boldrini andiamo sull'altra pagina del messaggero la provincia taglia ma forse non basta il presidente Tagliolini dice ma se verrà confermato il decreto sulle spese nel 2016 a rischio servizi e anche gli stipendi ospedale, sistema informativo in tilti, primari pazienti mai a rischio, disagi momentanei di avvio ma il servizio migliorerà con il nuovo software chiudiamo con la pagina di Fano scuola stoppa le polemiche, promosso il servizio mensa la nuova gestione aveva sollevato perplessità da parte dell'opposizione l'assessore Mascarin rodaggio finito e il primo bilancio ci soddisfa dice del tutto, tra l'altro tutti i 53 dipendenti che prima svolgevano le medesime funzioni sono stati riassorbiti Boris Rappa invece si rimette da Asso Turismo Boris Rappa è candidato alle regionali poi Ciclabile e Marconi la protesta corre sulla pista da una parte i punti luce rischiosi dall'altro il degrado del circuito ma Aset e Comune replicano ed è tutto per la rassegna stampa grazie per averci seguito vi auguro una buona giornata ci vediamo stasera alle 20.30 con il nostro telegiornale arrivederci grazie a tutti